Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Oggi vediamo una partita di Magnus Karzen dove il suo avversario prova a dargli lo scacco matto del barbiere in quattro mosse. Vedremo se questa apertura può essere giocata ad alto livello, come è stata giocata e la variante adottata da Karzen. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace e di iscriversi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo! Musica Ok eccoci qui, prima di partire voglio avvisarvi che il negozio è stato appena aggiornato con nuove magliette, ad esempio guardate questa The Pwns, maglietta molto molto carina, la trovate a maniche corte, maniche lunghe, come volete. Trovate tutti i prodotti scontati del 15% fino alla fine di questa settimana, quindi approfittatene e andate a dare un'occhiata al negozio, trovate il link in descrizione. Bene, chiaramente qui Karzen giocava con i pezzi neri, è una partita blitz questa, ma nonostante c'è una partita di alto livello, il bianco inizia con pedone 4, Karzen gioca E5, donna H5 subito. Chiaramente con donna H5 il bianco vuole catturare il pedone in E5, questa è un'apertura da principianti, l'apertura più usata da chi inizia a giocare a scacchi in questo momento praticamente. Cavallo C6, Karzen difende chiaramente il pedone in E5, alfiere C4, il bianco continua, questo è il matto del barbiere, vuole dare scacco matto in F7. Pedone G6, Karzen guadagna un tempo sulla donna, impedisce chiaramente lo scacco matto. Donna F3, il bianco insiste, vuole dare scacco matto e Karzen qui sviluppa il cavallo. Questo attualmente è il miglior sistema per contrastare il matto del barbiere. Il bianco gioca cavallo E2, questa è la mossa migliore, molto interessante, impedisce in pratica il salto del cavallo in D4, quindi serve a controllare la casa D4. Karzen prosegue con alfiere G7, prepara arrocco corto. L'avversario gioca pedone D3, con questa mossa intende sviluppare l'alfiere in G5. Karzen prosegue con D6, anche Karzen vuole giocare alfiere G4. Attualmente l'alfiere G4 è molto più pericolosa di alfiere G5, perché appunto va ad attaccare direttamente la donna. Quindi il bianco gioca H3 per impedire alfiere G4. Karzen ora va a caccia dell'alfiere in C4, con cavallo A5. Il bianco continua con cavallo C3, non sposta l'alfiere anche perché non avrebbe avuto comunque tanto senso. Cavallo per C4, pedone per C4. In questo modo comunque il bianco ha questi due pedoni che controllano il centro, quindi ha un ottimo controllo del centro. Karzen continua con pedone H6 per impedire appunto alfiere G5. Segue pedone B3, il bianco deve trovare una sistemazione per questo alfiere, quindi probabilmente ora vuole svilupparlo in fianchetto. Alfiere E6 da parte di Karzen, donna D3. Donna D3 è anche la miglior mossa del motore, qui siamo all'undicesima mossa, la posizione è completamente pari. Quindi come apertura sembra che regga anche contro il campione del mondo. Karzen è il miglior giocatore della storia ragazzi, guardate i risultati che sta facendo soprattutto oggigiorno. Si è ripreso in maniera assurda. Karzen qui mette il real sicuro, gioca a rocco, segue pedone G4. Il bianco vuole cercare di attaccare. Ora, quando una parte è arroccato mentre l'altra si trova ancora con il re al centro, bisogna adottare la giusta strategia. Un'ottima strategia è quella di cercare di giocare al centro oppure di giocare sul lato di donna. Altrimenti il bianco fa presto a sistemare i suoi pezzi in qualche modo e dare scacco matto. Va impedito. Con pedone C6 Karzen qui prepara tante cose. Prepara D5, prepara B5, prepara donna A5. Diverse idee in mente. Il bianco sacrifica un pedone, gioca a pedone G5, idea molto interessante. H per G5, alfiere per G5. Pur di sviluppare i pezzi, sacrifica questo pedone. Perché tanto, ora qui la partita è talmente sbilanciata, molto probabilmente il bianco arroccherà a lungo. Non vuole arroccare sicuramente corto perché il re sarebbe veramente nei guai. Donna A5 da parte di Karzen. Con questa mossa, come vedete, Karzen cerca di giocare sul lato di donna. E il bianco decide di arroccare. Arrocca anche perché al momento il pedone in A2 è difeso dal cavallo, quindi non sta rischiando. Karzen qui gioca pedone B5. Ora qui si tratta di capire chi dei due sarà più veloce ad attaccare, se il nero o il bianco. Però, come vedete, con pedone B5 Karzen crea un punto di contatto tra i due pedoni. Attualmente è il bianco che si deve difendere. Il bianco qui decide di catturare, Karzen non riprende neanche indietro e gioca pedone D5. La idea di Karzen qui è quella di aprire le linee. Qui, pur di sacrificare qualche pedone, è molto importante portare velocemente i pezzi in gioco ad attaccare. Il bianco gioca Re B1, difende il pedone in A2, Karzen prosegue con D4, attacca il cavallo appunto. Il cavallo viene spostato in A4 e qui Karzen gioca donna per B5. Questa è una scelta un pochettino strana, possiamo dire, perché forse era più facile catturare di pedone, come suggerisce Stockfish. Però qui Karzen si sentiva abbastanza sicuro di questo finale. Segue donna per B5, pedone per B5, cavallo C5. Qui Karzen si ritrova con questo pedone che è forte, non è passato perché c'è il pedone in C3. Ma diciamo che Karzen nei finali non ha nessun rivale, è fortissimo, no? Segue torre C8, Karzen sviluppa la torre, si lascia doppiare i pedoni, lo fa per un motivo perché vuole sviluppare anche l'altra torre. Quindi va ad attaccare il pedone in F2. Il bianco cerca subito di fare qualcosa, intanto difende il pedone in E4 poiché è attaccato dal cavallo e poi vorrà difendere comunque in qualche modo questo pedone. Karzen qui prosegue con cavallo H5, come vedete appunto attacca il pedone in F3. Il bianco difende il pedone in F3. Torre C7, questa è un'idea molto interessante. Karzen qui vuole o raddoppiare i lettori sulla colonna C per attaccare il pedone in C2, oppure raddoppiare i lettori sulla colonna F per attaccare il pedone in F3. Il bianco gioca torre F1, modalità difensiva, difende il pedone in F3. Karzen gioca Re H7. Cosa serve questa mossa? Ora vediamo. Re B2 per il bianco, alfiere H6. Mentre la mossa Re B2 non l'ho capita tanto, la mossa Re H7 sì, l'ho capita, Karzen intendeva giocare alfiere H6 per cambiare il suo alfiere cattivo per l'alfiere del bianco che è più forte. Qui il bianco non cambia ma gioca H4. Karzen prosegue con torre C8, ecco che raddoppia le torri attaccando il pedone in C2. Segue C3, pedone A5. Come vedete Karzen cerca di attivarsi e di attaccare sul lato di donna. Qui il bianco di nuovo va a difendere tutto con torre C1, alfiere G7, alfiere D2. Guardate, il bianco non sta facendo altro che difendersi. Karzen gioca A4, attacca il pedone in B3, pedone per D4 e qui seguono tutta una serie di cambi dove la posizione rimane completamente pari. Diciamo che il bianco comunque sta giocando bene perché si sta difendendo molto bene. Qui gioca F4, Karzen continua con E5, pedone per E5, alfiere per E5, pedone per A4, pedone per A4 e cavallo per D4. Il bianco qui guadagna un pedone. Karzen va ad attaccare il cavallo ma attacca anche il pedone in E4, quindi vorrebbe riprendere immediatamente indietro il pedone. Il bianco difende il cavallo con alfiere C3, arriva a cavallo F4 guadagnando un tempo sulla torre, la torre rimane su questa colonna per difendere il cavallo e qui arriva una mossa molto interessante, ovvero cavallo E6. Con cavallo E6 chiaramente Karzen mette pressione sul cavallo, in caso di cavallo per E6 seguirebbe alfiere per C3 guadagnando anche la torre, quindi il bianco deve stare attento ma ha una buona mossa, gioca a cavallo E2, difende l'alfiere in C3. Karzen qui riprende indietro il pedone, la posizione è completamente pari dopo 38 mosse, segue alfiere per E5, torre per E5, cavallo C3, il bianco attacca il pedone in A4, re H6 di Karzen vuole venire su per catturare il pedone in H4, cavallo per A4, re H5 appunto, torre H2 il bianco difende, cavallo D4 per Karzen, Karzen vuole giocare cavallo F3 per appunto guadagnare indietro il pedone, cavallo C3, cavallo F3, ecco qui il pedone non si può salvare e rientramo in questa posizione che è pari, ma vediamo come la giocano, entrambi hanno un pedone passato, il bianco inizia subito a spingerlo, Karzen fa lo stesso e poi il bianco però non può spingere ulteriormente il pedone, quindi lo deve difendere con il re, deve salire con il re in B4 prima di giocare pedone A5, quindi deve perdere un po' di tempi, mentre Karzen può andare avanti tranquillamente, vedete il pedone del nero è già arrivato, tra l'altro la mossa torre A1 è un errore gravissimo, l'unica mossa che teneva era torre G1, in caso di cavallo F3 chiaramente torre per G2, invece con torre A1 il bianco ha l'idea di supportare il pedone, però non è abbastanza, Cavallo F3 Karzen vuole andare a promozione, pedone A6, cavallo E1, quindi Karzen non vuole neanche che il bianco sacrifichi la torre sulla promozione, ma blocca la strada della torre con cavallo E1, il bianco continua con pedone A7, promozione da parte di Karzen, promozione. Rientriamo in questa posizione dove i due re sono molto scoperti, quindi è completamente vinta per il nero, perché è vinta per chi ha la mossa. Qui ha la mossa il nero e Karzen inizia a dare scacco in C2 intanto, il re va in C4, scacco in C5, re D3, di nuovo scacco, re D2, scacco di nuovo, re D1 e qui il bianco decide di abbandonare, perché abbandona? Abbandona perché segue donna E1, scacco matto. Cosa abbiamo potuto vedere in questa partita? Allora intanto complimenti all'avversario di Karzen che oggi è grande maestro, ha provato a giocare il matto del barbiere contro Karzen. Gli è andata anche bene, non gli è andata malissimo, perché per quasi tutta la partita sono stati in parità, quindi diciamo che è un'apertura che non va sottovalutata, anche se è un'apertura per principianti, ma non va sottovalutata perché oggi nell'era dei computer uno può giocare veramente di tutto preparandosi le linee con il motore. Comunque, bravo Karzen che ha vinto poi la partita. Grazie a tutti per la visione di questo video, vi ricordo di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, ciao e alla prossima!